Abbiamo mostrato ovviamente anche con una sfida di coppa, risultando sempre con un gol di campo. Il condomino lo dobbiamo riuscire insieme con il numero 7, Ettoli! Partipilo! Ettoli! Partipilo! Entoli Partipilo! 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 Nelle ultime ore, attraverso i social, è stata annunciata dal club una sorpresa ed è quindi arrivato il momento di scoprirla insieme. Classe 1988, vanta più di 200 presenze e 30 reti realizzate nella massima serie del suo paese, oltre a numerose esperienze delle nazionali Under 16 e Under 21, Croata. Atleta rapido, in grado di giocare sia a destra che a sinistra di fronte d'attacco, ha in passato anche ricoperto il ruolo di punta centrale. Diamo un caloroso benvenuto al nuovo acquisto del Bisceglie, con il numero 14, Mattias Delic! Il regalito caloroso, Mattias, che è l'ultimo arrivato! Solo 24 ragazzi, attenzione, perché la rosa ne contiene 25 e quindi ne manca uno, l'ultimo, e passate le cose più male, non lo aspira? Beh, direi come di sì, è l'interno che la difesa è raggiunta. Classe 92, cresciuto tra i giovanieri di Siracusa e Palermo. Lo scorso anno ha totalizzato 29 presenze e 4 resi, di cui una pesantissima allo spadere contro il Traspedere. Quest'anno è ancora a vicendio per guidare un progetto vizioso. con il numero 5, il capitano, Mattias! Facciamo un gratisimo applauso ai nostri 15 ragazzi! Io direi un abbraccio grande quanto un campionato! Sì, sì, non so se ce lo ridaranno intero, però... Allora, Andrea, ho una curiosità. Scusami, Andrea, io non ricordo bene. Verso fine aprile, tipo il 30 aprile, ma eri dalle parti di Nocena Inferiore. Vedo che sei emozionato, eh? Non si dimenticano certe cose. No, no, non si dimenticano, però... Voglio fare un ringraziamento speciale a tutti quelli che... quest'anno non ci sono e che l'anno scorso hanno partecipato alla vittoria. E' un'altra storia che si dimentica, ma per il giorno questo è la torscia di Capitano. E' un po' bello che è tanca voi, e da un po' drammol! E' 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 un po' drammol! Siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti. Siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti.